Le cento cantine abruzzesi presenti al Vinitaly hanno festeggiato il cinquantesimo compleanno della DOC Montepulciano d'Abruzzo. È stata l'occasione anche per fare il punto sulle peculiarità di questo vitigno che rappresenta ancora oggi il 56% del vigneto della regione. Sentiamo uno dei vignaioli più famosi del mondo, Francesco Paolo Valentini, che rilancia la qualità del Montepulciano d'Abruzzo. Sì, quest'anno è una data molto importante perché si festeggiano i 50 anni, anzi io direi mezzo secolo, perché mezzo secolo dà maggiormente l'idea del trascorrere del tempo. In questi 50 anni si è fatto tantissimo, soprattutto negli ultimi 20 anni si è riuscito a trarre dal Montepulciano un vitigno eccezionale, ma anche particolarmente difficile nella lavorazione perché dà vini piuttosto strutturati. Si è riuscito a tirar fuori dei vini particolarmente eleganti ed armonici, quindi è anche un modo per festeggiare non solo i 50 anni ma un importante risultato raggiunto. Di strada ne è stata fatta tanta, in 50 anni un vino, diciamo così da tavola, invece sta diventando un vino davvero di qualità. Sì, sì, è quello che dicevo, purtroppo negli anni 50-60 il Montepulciano era considerato un vino da taglio, è una parola brutta che ho difficoltà a dirla, però era così. Però ultimamente ci siamo resi conto delle immense potenzialità di questo vitigno. Infatti in questi giorni ci sono state delle degustazioni, ho avuto piacere di assaggiare tanti Montepulciani e mi sono reso conto che l'Abruzzo, attraverso il Montepulciano, ma non solo, anche attraverso altri prodotti, è riuscito a raggiungere dei risultati forse prima inesperati.